buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale nel video di oggi vado a spiegarvi che cosa sono i portafogli di carta ovvero i paper wallet perché sono dei portafogli molti sicuri come inviare ricevere cripto valuta da un exchange all'interno di questo paper wallet insomma come andarlo a gestire perché alla fine è un portafoglio che possiamo stampare su carta andiamo a vedere il suo funzionamento ovviamente dopo la sigla in questo video vedremo come creare e utilizzare un paper wallet dedicato a bitcoin per fare ciò bisogna utilizzare due portali primo blog cene puntocom e il secondo bit address punto org ma prima di tutto vediamo come generare il nostro paper wallet non vi preoccupate se in questo video faccio vedere chiave pubblica chiave privata o qualsiasi dato sensibile perché tanto questi portafogli che creerò nel video sono appunto a scopo dimostrativo e verranno cancellati non immetterò mai dei bitcoin ci colleghiamo a bitcoin address punto org che è il portale che ci permette di creare un paper wallet una cosa importante se vogliamo avere una sicurezza in più possiamo disconnetterci dalla rete quindi possiamo creare anche il nostro paper wallet pur non avendo il wifi attivato quindi per prima cosa disattiviamo il wifi per avere una sicurezza in più e dopodiché come vediamo scritto in sovraimpressione iniziamo a muovere il mouse per generare numeri casuali questo movimento viene preso sia in modalità online e soprattutto in modalità offline quindi vi consiglio di utilizzarlo in modalità offline iniziamo a muovere il nostro cursore e come vedete le percentuali di completamento salgono arriviamo fino al cento per cento continua a muovere ci siamo quasi 90 per cento e arriviamo al cento per cento fermiamo il mouse e vedete che ha generato il nostro indirizzo pubblico e la nostra chiave privata quindi già queste sono informazioni importantissime il bitcoin adere se lo conosciamo tutti è la nostra chiave pubblica dove possiamo inviarla a nostri amici utilizzarli exchange per inviare ricevere cripto valute mentre la private chi è la nostra chiave segreta che non deve essere assolutamente né condivisa né mostrata né data a nessuno perché ci permetterà di importare il nostro portafoglio con tutto il suo contenuto ma per generare il paper wallet vero e proprio bisogna spostarci su paper wallet ed ecco che ha generato questi qr code e se è notata attentamente la parte sinistra contiene il bitcoin adress ovvero la nostra chiave pubblica quella che possiamo dare per ricevere i nostri bitcoin e la parte di destra contiene la private chi che è la nostra chiave segreta va da sé che questi due qr code questi due queste due chiavi vanno tenute separate perché se perdiamo l'indirizzo pubblico ma abbiamo noi in possesso il possesso della nostra chiave privata possiamo continuare a utilizzare il nostro portafoglio diversamente se perdiamo la nostra chiave privata qualcuno la trova capisce che cos'è può generare il nostro portafoglio e utilizzare i nostri fondi perché in quel caso lui in quel caso diventerà il proprietario del portafoglio una sicurezza in più che possiamo dare al nostro portafoglio e andare ad abilitare la criptografia bip 38 quindi se noi andiamo a mettere flag su bit 30 bip 38 e andiamo a inserire una nostra password ad esempio stupidamente metto il mio nome mauri e vado a perdere il paper wallet compreso la private chi non potrebbero comunque accedere al portafoglio perché dovrebbero decryptare anche questa frase dopodiché bisogna generare il paper wallet quindi andiamo su address to generate mettiamo 1 address per page mettiamo 1 clicchiamo su generate ed ecco qua il nostro paper wallet dopodiché clicchiamo su print e possiamo stampare il nostro portafoglio ok ora che abbiamo creato questo paper wallet come lo utilizziamo per inviare i fondi è semplicissimo ad esempio su binance se abbiamo dei bitcoin andiamo a cliccare su prelievo il wallet di destinazione è questo quello che abbiamo generato e da lì inviamo i bitcoin e da baino solo qualsiasi alti che c'è in giallo altro portafoglio all'interno del nostro wallet ma come possiamo interagire possiamo interagire con i wallet bitcoin che ci permettono di importare la chiave privata in questo caso un metodo più utilizzato e andare su blog chain puntocom creare un profilo facciamo l'accesso arriviamo a questa schermata andiamo a fare tutte le verifiche del caso ma dobbiamo importare il nostro portafoglio quindi come si fa dobbiamo andare nel nostro account in alta destra cliccare su wallet da dress arrivati a questa schermata bisogna andare a importare il nostro portafoglio il nostro paper wallet quindi clicchiamo su import address ci spostiamo su bitcoin ades punto org o comunque utilizziamo i dati che abbiamo stampato io per semplicità faccio un copio incolla copio copio la chiave segreta che ci permette di importare il nostro portafoglio e di identificarci come i reali proprietari incollo vado a selezionare private key wallet bitcoin ovviamente da zero perché è un portafoglio di prova l'importo e come vedete adesso ho importato il mio address il mio paper wallet con zero bitcoin più a destra posso archiviare con vedere la prova che inserire un messaggio come ad esempio thanks for accepting bitcoin che già un messaggio preimpostato oppure andare interagire col mio portafoglio clicco su transfer all e possa andare a selezionare la corren si ovviamente bitcoin andare a inserire un portafoglio di destinazione e andare a inserire l'importo che voglio inviare e più in basso possa anche andare a selezionare netto fi e quanto riguarda la priorità regolare andrà alla velocità classica della block chain di bitcoin o se no posso andare a inserire la priorità che ovviamente pagherò di più ma verrà trasferito in meno tempo può capitare che a seconda del processore che si utilizza per importare il paper wallet venga chiesta la chiave privata ma sotto forma di un altro chiamamolo così formato ad esempio il formato wiff o il formato bip a seconda appunto dei processori ma come possiamo ottenere questi tipi di formati visto che noi abbiamo la chiave privata classica la dobbiamo copiare andare su wallet detail vedete qua ci sono tutti i formati with with c ex b64 b6 mini bip 38 si va a copiare la chiave privata clicca su view detail e in automatico vedete che va a formare tutti questi qr code che sono le private chi nei vari formati e anche qua possiamo cliccare su print e andarli a stampare le problematiche del paper wallet sono le problematiche classiche che si possono avere anche con un cold wallet ovvero lo possiamo smarrire un cold wall si può rompere il nostro paper wallet si può deteriorare pensiamo che magari ce l'abbiamo sul tavolo e ci rovesciamo sopra dell'acqua ad esempio quindi consigli che vi posso dare ovviamente e stampare più copie del vostro paper wallet da tenere ovviamente in luoghi sicuri magari potete anche plastificarlo comunque compiere tutte quelle azioni a rendere più sicuro il vostro possesso bene siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro appuntamento come sempre spero che il video vi sia piaciuto l'abbiate trovato utile vi invito per supportare il mio lavoro ad iscrivervi al canale youtube se avete bisogno di assistenza o semplicemente volete fare due chiacchiere insieme a noi ogni bianca la nostra community telegram vi ringrazio per il vostro tempo ci vediamo presto ciao ciao